ragazzi per chi volesse sostenere il canale ricordo chi lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina stasera una live devastante con effembreg alle ventuno e trenta anticipo uno dei quattro cinque argomenti di cui mai nessuno ha parlato e secondo il financial times tra le pieghe del pic bond c'era cosa cosa c'era se vince da questo finanziamento che questo finanziamento praticamente era propedeutico la cessione e dalla quale la stessa optria avrebbe preso qualcosa in aggiunta ai proventi del finanziamento quindi o tripresta i soldi a zang da quello che dice il financial times non il vernacoliere o come si piantano le carote il settimanale come si piantano le carote e le zucchine financial times optria presta i soldi non solo perché ha già il compratore come piano b ma presta i soldi a zang anche perché c'era l'accordo che entro questi tre anni lui avrebbe dovuto cedere motivo per cui optria si è irrigidita ripeto da quello che riporta il financial times un'ora e mezzo fa la mia analisi qual è in base a questa cosa qua che a maggio duemila ventuno eh il signor zang aveva nove mesi di stipendi arretrati da pagare uno scudetto appena vinto eh ma con un gran periodo di messa in mora da parte dei giocatori che non riscuotevano da nove mesi messa in mora il rischio di penalizzazione quindi gli sarebbe stato ritirato anche il titolo eh dello scudetto lui si è ritrovato con tutte le banche e gli rifiutavano i prestiti compresa la Goldman Sachs banca molto a quei tempi molto vicino a lui e a mio avviso il governo cinese forse avrebbe potuto presentare gli optri che già collaborava eh con con loro vedi Evergrande e lui per scogiorare la messa in mora e la perdita dello scudetto si è affidata a questi squali che bevono il sangue perché Effenberg te lo ha detto già otto mesi fa optri beve il sangue non è una ollus qualcuno diceva che erano amici di zang non sono amici di nessuno questi questi bevono il sangue quindi la situazione ormai è al limite del ridicolo in Cina sono che sono mezzanotte le una mancherebbe un giorno eh un giorno solo per poter lavorare perché poi il venti Lussemburgo è festa c'è chi dice si può fare non si può fare sul contratto del prestito che noi abbiamo ci ha scritto entro il venti e non oltre entro e non oltre poi questa ragazza è una data che conoscono da tre anni duro fatica a credere che arrivano alle ultime eh quattro ore cercando di far tutto c'è una transazione di mezzo da da più di quattrocento milioni bisogna eliminare un pegno registrarne un altro stasera queste cose ve le spiegherà benissimo Effenberg il bilancio cosa molto strana abbiamo spiegato il perché del meno Effenberg ha spiegato il perché del meno seicento non è quello non è un dato preoccupante ma la cosa molto strana è presentare il bilancio del duemilaventuno di Grand Tower ad aprile duemilaventiquattro beh Effenberg parlerà anche di questo stasera comunque ragazzi siamo a un bivio siamo a un bivio io ripeto ora non sto scherzando io voglio capire quei quattro superstiti che sono rimasti che tifano per Pico perché tifate per Pico ma voi lo vedete la lo vedete la vedete nella nella vostra stanza Pico in questo momento è con voi fatemi sapere perché possiamo aiutarvi perché ormai il fatto ci siano i sauditi è certificato quindi io vorrei solamente sapere io non voglio dire sei interista non sei interista sei un gobbo no ho sbagliato chiedo scusa io però vorrei sapere una cosa qual è il motivo se vi dichiarate tifosi dell'ite per cui ti fate Pico cosa vi serve un disegnino per capire che Zanga a livello finanziario non può più andare avanti e ci ha resi un bersaglio ormai che siamo in pericolo a livello finanziario perché oggi siamo in pericolo stasera 21 e 30 live con Fmerg iscrizione gratis e campanellina ciao a tutti